Il Lago di Garda, una piccola comunità fatta soprattutto di pescatori, gente semplice con radici profonde nella fede, è a Castelletto di Brenzone che prende il via l'opera straordinaria di un pastore d'anime lungimirante, Giuseppe Nascimbeni. È il 6 novembre 1892 e Nascimbeni intuisce che solo guardando l'esempio della Santa Famiglia di Nazareth si possono dare risposte e sostegno alle famiglie. Oggi, come allora, le figlie del Beato Nascimbeni continuano quest'opera intensificando le occasioni di informazione, soprattutto dei giovani, ma anche di confronto. Noi eravamo ben convinti di dover richiamare la figlia Nascimbeni proprio perché dall'inizio, da giovane prete e poi da parroco, lui ha avuto la passione per la famiglia. Diceva che la famiglia, dentro la famiglia, è il futuro della società, il futuro della vita. Lui è stato un uomo appassionato alla vita, quindi alla famiglia non potevamo che pensare a un convegno per la famiglia, proprio perché oggi le difficoltà, questa società liquida che ha appena richiamato, abbiamo bisogno di risaltare i valori, proprio diciamo, costituzionali, valoriali, cristiani per la famiglia. Il convegno, promosso dall'Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia nel venticinquesimo anniversario della beatificazione di Donna Nascimbeni, ha voluto mettere a confronto formatori ed amministratori, chiamati a dare risposte concrete alle domande delle famiglie di oggi. La politica può fare tantissimo, il problema è che la politica dovrebbe ricordarsi la sua ragione di essere, la politica dovrebbe essere servizio, dovrebbe essere impegno per il bene di tutti. In realtà quello spettacolo che vediamo a livello nazionale è invece proprio il protagonismo personalista che punta solo a cercare di mantenere il proprio potere o di accrescerlo. La mancanza di limiti, limiti in tutti i sensi, temporali, di generazioni, di rispetto, di pudore, di decenza, cioè la mancanza di un limite e il centrarsi su di sé fa in modo che nessuno è più disponibile a stare con l'altro. Stare con l'altro significa anche sacrificarsi per l'altro, avere un tempo d'attesa, una gravidanza, che i bambini crescano, che ti diano dei problemi, che facciano fatica a dormire, che tuo marito possa avere dei problemi sul lavoro, che tu possa avere dei problemi, che tu possa essere meno giovane.